Io è breve, la voglio leggere perché sia ben capita. La sintetizzo, quindi per rispetto del tempo e della pazienza che portano i miei colleghi. Allora, il personale volontario del Vigile del Fuoco è costituito a Vigile del Fuoco volontari chiamati a qualsiasi ora del giorno e della notte ad intervenire nelle situazioni di emergenza, mettendo sistematicamente a repentaglio la propria esistenza. I Vigile del Fuoco volontari rappresentano un supporto indispensabile per i cittadini. Nonostante l'assoluta carenza di risorse tecniche, essi garantiscono un contributo essenziale alla sicurezza del territorio per la salvaguardia dei beni di tutta la comunità veneta. Considerato che in Regione Veneto i Vigile del Fuoco sono dislocati in ben 38 distaccamenti volontari, oltre ad alcune sedi miste, garantendo oltre 1.300 interventi di soccorso ogni anno. Attualmente la categoria è interessata da diverse problematiche che attengono principalmente le lacune legislative della stessa legge statale. I volontari ad oggi sono costretti ad operare con strumenti, mezzi, attrezzature insufficienti ed osolete, non garantendo quindi un soccorso adeguato alla tutela delle incolumità personale e materiale della comunità del Veneto. Ritenuto che per mancanza di risorse i corsi di formazione sembrano svolgersi in maniera non adeguata, anche questi, a garantire una formazione sufficiente a tutela della sicurezza dei cittadini, i volontari devono sottoporsi periodicamente a visite mediche affrontando un onere economico di circa 429 euro. Rilevato che la scarsità di risorse economiche per la formazione e gli interventi dei volontari dei visi del fuoco determinerebbe gravi conseguenze sulla sicurezza dei nostri cittadini, il Consiglio regionale del Veneto impegna la giunta regionale a sollecitare il Parlamento ed il Governo affinché vengano ridotti i costi relativi alle visite mediche stanziare nuove risorse e atte e garantire un'adeguata formazione auspicando altresì una nuova revisione dell'attuale normativa statale. Grazie per l'attenzione.